La memoria non è il ricordo. La memoria è quel filo che lega il passato al presente e condiziona il futuro. Così si è espresso Piero Terracina, uno degli ultimi testimoni di Auschwitz. Come esseri umani abbiamo bisogno di memoria per vivere e crescere. Per questo ci serve il ricordo. Per avere memoria dobbiamo affidarci alle parole. È una commistione tra astrazione e concretezza che permette di capire il passato e portarlo al presente. La storia, come asettica sequenza di azioni, non porta memoria. È cornice dell'esperienza degli individui, cornice pesante, talvolta opprimente, come nel caso del periodo della Seconda Guerra Mondiale. Sulla tela sono dipinti a colori vivi, gli sforzi, i bisogni, i momenti, la realtà delle persone che danno senso e significato alla storia. Sono intrecci, sono parole che si combinano e si legano l'una all'altra. Continui bombardamenti, rifugi nel Porfido e sirene d'allerta. Azioni di interruzione delle vie di comunicazione tra Italia e Germania. La Vis 1943-1945. Il fondo valle, celato alla vista, mentre gli aerei rimbombano, colpiscono e vanno. Ricordo con chiarezza l'inizio della guerra, della Seconda Guerra Mondiale. Il 10 giugno 1940 alla vista è stata una grande adunata davanti al municipio con tutti gli avanguardisti, i fascisti, tutti allineati. e ad ascoltare il discorso del duce. Erano stati installati i microfoni sulle finestre del municipio e su quelli della Casa Romani, ora Palazzo Zadra. E lì, tuonava il duce, bisogna difendersi, obbedire e combattere e fare la guerra agli inglesi, agli francesi. Sì, la guerra lei è ben... tremenda. Mancavano gli uomini più forti che erano in guerra e mancava anche il mangiare, insomma, ecco, non c'è che ci fosse il granché. Perché erano italiani, ma terroni, secondo i tedeschi, erano terroni e allora si vengono di Alavis, perché sennò l'era una brutta guerra l'era. Durante la guerra ero un bambino e purtroppo la guerra non la portano, non la portano benessere, no? La guerra la porta distruzione e tutte le robe che dopo si sta mai, per lo più per le famiglie, per i genitori. Dio mio, Dio mio, per l'amor di Dio. Non voglio neanche più ricordare, no.